Non sarebbe stato assicurato il principio del giusto processo imponendo alla difesa tempi fin troppo stretti per l'esame di testimoni chiave e una delle eccezioni che il legale Salvo Macri ha sollevato davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta nel corso del giudizio di secondo grado successivo alla condanna all'ergastolo del nicemese Giuseppe Ciglio e accusato di essere l'omicida dell'allora 22enne Orazio Sotti, ucciso davanti al garage di casa a fondo Ioz nel dicembre di 19 anni fa. In primo grado l'assoluzione invece è stata pronunciata per il fratello Salvatore Ciglio difeso dal legale Luigi Cinquerui. Una lunghissima istruttoria dibattimentale, quella che ha portato alla condanna di primo grado ma che per la difesa dell'imputato sarebbe stata viziata dall'inosservanza delle garanzie di parte. Per questa ragione tutte le ordinanze emesse dalla Corte d'Assise di Caltanissetta nell'ultima fase del dibattimento vengono ritenute nulle dalla difesa di Ciglio. Il legale ha inoltre sottolineato che dopo la sua iniziale rinuncia al mandato in primo grado, quasi una plateale forma di protesta proprio per la presunta violazione dei diritti dell'imputato, non sarebbero stati concessi i necessari termini al nuovo difensore che in quei giorni si trovava fuori dall'Italia per impegni professionali. Fu indicato un legale d'ufficio che però avrebbe dovuto esaminare testimoni fondamentali ma senza conoscere i faldoni di atti di procedimenti. Nell'esporre le eccezioni la difesa ha parlato del tentativo di vestire un pupazzo da avvocato. Allo stesso tempo mira la riapertura dell'istruttoria con il nuovo esame di testimoni ritenuti cruciali per ricostruire le ore precedenti all'azione dei killer. La procura generale si è opposta alle eccezioni nullità ma ha aperto alla possibilità di risentire testimoni. I giudici della Corte d'Assise d'Appello Nissena scioglieranno la riserva la prossima settimana. Il caso Sotti venne riaperto a danni di distanza seguito dell'insistenza della famiglia alle nuove indagini avviate dai poliziotti del commissariato e da quelli dell'aliquota della procura. I familiari sono parti civili nel giudizio con i legali Giuseppe Cascino e Francesco Minardi. In primo grado gli è stata riconosciuta una provvisionale oltre al diritto al risarcimento dei danni.